Un 68enne di Siano, provincia di Salerno, si è portato sulle montagne erpine alla ricerca di funghi e, come successo ad altre persone nei giorni scorsi, si è perso nella zona compresa tra Monteforte, Forino e Moschiano. Lanciato l'allarme, i vigili del fuoco di Avellino si sono attivati con squadre terrestri per la ricerca e una volta individuato l'uomo, è stato effettuato il recupero con l'elicottero del nucleo regionale di Ponte Cagnano, che ha trasferito l'uomo presso il campo sportivo di Forino, dove è stato sottoposto a controlli medici. Per fortuna, oltre allo spavento, il 68enne non ha riportato conseguenze. Con questo sono tre gli interventi del genere effettuati dai gaschi rossi in altrettanti giorni precedentemente. Infatti, i vigili del fuoco hanno soccorso una 58enne di Avellino sulle montagne tra Monteforte e Forino e un 57enne di Santa Anastasia, provincia di Napoli, che si era perso nelle montagne di 15. Per fortuna, per nessuna di queste tre persone ci sono stati gravi conseguenze. In questo periodo sono sempre più frequenti le disavventure in montagna. Per chi si reca in cerca di funghi, le persone con troppa leggerezza si incamminano tra la vegetazione, senza avere un giusto equipaggiamento, a cominciare dalle scarpe, che spesso sono causa di caduti, a volte anche senza telefonino. Comportamenti assolutamente da evitare per salvaguardare la propria incolumità. Comportamenti assolutamente da evitare la propria incoluzione.